Post partita di Borgoratti-Bargagli, finita a terra a due in favore del Bargagli, siamo con mister Luca Cappanera. Mister, un risultato buono, un buon Bargagli, forse nel primo tempo ho denotato un po'... Sì, eravamo un po' troppo lunghi. Esatto, sì, una spaccatura in mezzo al campo, un po' meno. Il primo tempo ha fatto meglio, anche se il gol è nato da un po' da una situazione, un infortunio al primo minuto, da una punizione praticamente da metà campo e poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, eravamo un po' più vicini e siamo riusciti a fare tre gol su azione, quindi siamo contenti. Oggi abbiamo fatto giocare anche ragazzi che ne avevano avuto magari meno spazio nelle precedenti partite, quindi proseguiamo l'avvicinamento al campionato e dobbiamo cercare di stare tranquilli e trovare ancora le giuste misure, perché chiaramente abbiamo all'inizio difficoltà oggettive, che ci stanno. Borgoratti è una buona squadra che ti permette di giocare, è un buon potenziale offensivo, quindi è anche un piacere giocare con avversari del genere. Consideriamo che poi anche l'avversario ha fatto un gran gol solo a casa e su punizione. Abbiamo rimesso in piedi una partita a doppio svantaggio e siamo riusciti a vincerla, quindi penso che siano aspetti interessanti e positivi. Ecco, la preparazione a questo inizio di campionato che verrà proprio a breve, com'è stata per il Bargalli? È stata un po' particolare, condizionata un po' anche da qualche assenza forzata per problemi di lavoro e poi con un po' nell'incertezza che tutti abbiamo. Speriamo di riuscire a partire e a giocare con regolarità, perché poi serve un po' a tutti riuscire a riprendere la normalità. Grazie mister. Ciao, buona volta.